Alba per la rincorsa playoff vasto marina per allontanare lo spetto play out motivazioni più che abbondanti per una sfida che alla fine preverà il pragmatismo biancazzurro con le valese di Maria Carannante andiamo a vedere che cosa è successo al Luca Vallese di Alba Adriatica il primo tentativo di Marco Albenze con Fabrizzi per i Cramela che va sul fondo l'uno contro uno palla in mezzo ma Branno e Passamonti si ostacolano vicendevolmente rendendo vana l'iniziativa del numero 9 Rossoverde replica biancazzurra sull'asse Letto Santone Vatavu che prova il il tiro ma trova verissimo in grande spolvero ancora Alba al 27esimo e Cramela prova il colpo al volo bel gesto tecnico con pallone insidioso ma fuori dallo specchio della porta al 37esimo avvantaggiato in immediata verticalizzazione devizia che prende in controtempo verissimo ma solo una questione di centimetri negano il gol ai biancazzurri che però al 41esimo sorprendono tutti calcio di posizione che palla buttata in area Vatavu al tiro non perfetto verissimo in respinta corta sulla quale Santone si avventa implacabilmente e 0 a 1 primo tempo che si chiude qui ripresa che si apre con il mancato 0 a 2 vastese in una manciata di secondi vera e propria palla gol per Fieroni che pur di non calciare con il mancino si porta la palla sul destro ma perde tempo e vanifica il tutto lungo possesso di palla e tentativi rossoverdi che però sono sterili nonostante l'ingresso di Torre l'occasionissima Alba la spreca proprio lui alla mezz'ora di Stefano da lunghissima distanza bacia il legno attraverso sorprendendo tutti anche Torre che sul pallone ricaduto dal cielo lo rimanda da dove era piovuto ci prova poco dopo Icramellà che mandava via molto bene purtroppo alto e lungo per i due albenzi che avevano cercato l'impatto intanto Santone viene ammonito per la seconda volta e quindi lascia i suoi in dieci ma un minuto dopo Fieroni gela il Luca Vallese solita palla lunga uscita di Verissimo che rinvia sul corpo di un compagno di squadra carambola accidentale verso la porta della sfera e per Fieroni è un gioco da ragazzi buttare dentro e chiudere la gara nel finale nervi tesi dove a farne le spese sono l'allenatore Edmondo Di Amicis è un dirigente vastese mister cinismo e pragmatismo tre punti che vi portano lontano dalla zona playoff si in realtà era un po' di tempo che facevamo belle prestazioni però probabilmente anche i risultati sono venuti un po' meno niente una gara come dire giocata bene preparata bene a volte anche un po' di fortuna come dire non guasta e quindi la vittoria delle idee la vittoria soprattutto del gruppo è di tanto lavoro allora mister una sconfitta anche inaspettata no? sì assolutamente inaspettata anche se nella preparazione di questa partita avevo detto di stare in guardia di stare molto attenti perché questa comunque è una squadra cinica pragmatica no sì ma davanti c'ha degli ottimi giocatori infatti quando ripartivano anche nel primo tempo ci hanno fatto male insomma per cui noi dobbiamo fare una buona partita difensiva e poi comunque ci sarebbe capitato qualcosa quel poco che ci sarebbe capitato perché oramai le partite d'eccellenza sono tutte equilibrate cercare di mettere qualità in qualche giocata cosa che praticamente non è successo perché oggi stranamente loro che giocano sempre su un campo insintetico si sono adattati benissimo al campo e noi che ci alleniamo sempre qua sopra abbiamo fatto una fatica incredibile una giornata storta una giornata storta scelte sbagliate io mi auguro che sia una giornata storta perché noi ogni 4-5 domeniche ce l'abbiamo che incappiamo in queste giornate quindi mi auguro che sia un incendente di percorso domani cominciamo a preparare questa partita di mercoledì a Pescara cercando di metterci alle spalle il prima possibile questa giornata insomma Oscar Lupo ha visto Oscar Lupo ha visto Oscar Lupo ha visto Oscar Lupo ha visto Oscar Lupo ha visto